tecnogaz kiri kart accensione di kiri kart l'interruttore si trova nella parte posteriore del piede a fianco del connettore per il cavo di collegamento del piedale all'accensione di kiri kart il sistema entra in pressione sulla parte destra di kiri kart è installata la bottiglia dell'acqua distillata a sinistra nella parte posteriore si trova un pulsante che permette la regolazione dell'altezza di kiri kart nella parte frontale trova alloggiamento tutta la strumentazione rotante e l'ampio display touch